Si sono aggiudicate un biglietto ad ogni concerto le due vicine di casa del cantante genovese Alfa, due ragazze che vivono nell'appartamento sopra a quello del giovane musicista e che nei giorni scorsi hanno lasciato un post-it sulla sua porta per chiedergli cortesemente di fare meno rumore la notte. Sfortunatamente le pareti sono molto sottili e sentiamo tutto, scrivono non vogliamo fare polemica, siamo giovani e comprensive, ma durante la settimana la sveglia non è comprensiva con noi. Andrea De Filippi, in arte Alfa, è nato a Genova. nel quartiere Quarto dei Mille e lì continua ad avere la residenza proprio dove ha gettato le basi della sua carriera musicale nella scena rap che lo ha poi portato a diventare un volto noto della musica italiana fino al festival di Sanremo l'anno scorso. Le sue vicine di casa però si sono trovate costrette a chiedergli di smetterla di avere la musica ad alto volume anche di notte. Il bigliettino poi è stato fotografato dallo stesso cantante che per farsi perdonare lo ha postato su Instagram invitandole ad ogni suo concerto gratis. Probabilmente nell'ultimo periodo a peggiorare la situazione anche la creazione dell'ultimo suo album Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato.